E addirittura il kit inglese per preparare in casa una mozzarella fai-da-te. Tra slitterazioni grossolane dei prodotti tipici della dieta mediterranea, che a un italiano faranno sorridere, ma all'estero possono mettere in crisi la fiducia in un brand. Perché è ormai di marchio che si parla quando si fa riferimento alla dieta mediterranea. L'ingresso nel patrimonio immateriale dell'umanità dell'UNESCO ha aumentato però i casi di falsi prodotti che di tricolore hanno solo la bandierina sull'etichetta. Al Made in Italy occorre più tutela attraverso accordi commerciali internazionali e una maggiore chiarezza sull'origine dei prodotti alimentari da ottenere in sede europea. È l'appello lanciato da Pollica, dove la Coldiretti sta tenendo la sua prima summer school sul Made in Italy. Perché se una mozzarella su quattro venduta in Italia è ottenuta da semi lavorati industriali provenienti dall'estero, ad essere danneggiato è un settore che vale tra i 50 e i 60 miliardi di export e conta 300 mila occupati. Dovremmo mettere in campo politiche e strumenti che evitano questi disastri. L'agricoltura, il Made in Italy è una grande leva e importante di crescita per il paese. La svolta green dell'economia italiana non è solo quella che fa tornare a lavorare nei campi, dove si assiste pure ad un'impennata dell'occupazione giovanile. Il 6,9% degli imprenditori dell'agroalimentare ha meno di 35 anni e un lavoratore dipendente su quattro ne ha meno di 40. Per PN News Andrea Caruso. Tutti a cena.